La disturbo? Non so, dipende da quello che vuole sapere, dica pure. Volevo sapere se era disponibile per un'intervista per rispondere un po' a Dino Baggio. No, 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 io ormai sono fuori da tutte quelle cose, Dino Baggio non è neanche stato un mio giocatore, perciò non lo conosco neanche. No, quello certo, però sicuramente può darci un parere professionale. No, no, preferisco di no, grazie, buongiorno. Buona giornata.